Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono da 6 e benvenuti in questo nuovo episodio di Ulissecraft Allora, cosa faremo oggi? Solice e semplice, il mio modo era prenderci un po' di crafting table Quante ne abbiamo? Mi sa nemmeno una Ehm, 4, però quelle non penso vadano bene Quindi prendiamo del wood normale, ottimo E facciamocela in circa 8 di queste 5, 6, 7 e 8, bene Poi le mettiamo in tutto questo modo, bam Più un maids focus e abbiamo un uncrafting table Che è una figata pazzesca Perché vi uncrafta tutto Quindi ciò che avete craftato potete toglierlo e ricraftarlo in modo bello, carino e coccoloso Comunque, per chi non mi segue su Facebook Ma penso anche che l'abbia detto anche per i miei video Ehm, è uscita la versione, il mio mouthpack La versione 1 Sulla FTV, quindi potete trovarlo lì tramite private pack Quindi spero che lo caricherete molti E che vi piaccia Penso fare un aggiornamento ogni settimana Quindi, se vorrete lo potete trovare sempre lì E lo mettiamo qui, questo uncrafting table Cosa va per esempio? Nostra fornace? Eh, però 8 livelli per sta fornace Non è che sembra una cosa fantastica Questa, no, questa hammer Ehm, questa qua Ehm, ne Porta gun per esempio Una cosa bella è che la porta gun non è compatibile Non questa versione, l'altra si mi sembra Comunque, possiamo uncraftare tutto Quindi, per esempio, questa fornace Vabbè, 8 livelli, sprechiamoli Vedete, vedete che li prendiamo insieme Probabilmente pagando dei livelli Possiamo uncraftare quella roba Funziona anche la maggior parte delle robe Qualcuna no, però fa nulla Allora, mezzo focus lo possiamo levare Cos'altro? Ehm, allora, oggi andiamo a vedere la Ender IO Che ho appena aggiunto Ok, eh, sì, ciao Ender IO Eccola qua Vedremo precisamente Opla Vedremo precisamente un paio di materiali Quindi, per esempio Lo che volevo vedere era C'è lo stealing generator Che crea energia tramite una combustione Come funzionano le stealing engine Quindi, tramite Ehm, normale Coal Oppure lava Ma, quello che ci interessa a noi È lo smelter E, eh, lo smelter per adesso Poi in futuro vi farò vedere anche altre robe E si fa in questo modo Allora, prima di tutto Craftiamocelo Ehm, questo ci serve Opla Abbiamo tutto E questo qua Basic Opla L'abbiamo visto già tempo fa Poi l'ho dovuto, diciamo, levare Come modpack Nella modpack Quindi adesso È tornato Più forte che mai Ehm, dove lo mettiamo? Eh, qual è il problema? Dove lo possiamo inserire? Visto che non abbiamo più nulla Ehm Di spazio Un po' Ma vediamo Allora, adesso facciamo così Cos'è meno Chiudiamo questa parte E io direi di inserirlo Ehm, più o meno Più o meno Qua Eh, qua Più o meno Ehm Abbiamo bisogno comunque di all'inergia E mi sa proprio che qua nemmeno è ottimo Ehm, penso faremo una stanza Maybe Ok ragazzi Rieccomi Piccolo problemino di Crash Ma So cosa Modificare La prossima volta Ok Quale il problemino Spero l'abbiamo risolto Perché è un problema di VRCB E insomma Tanta roba Vieni tranquilli Penso di averlo risolto Nel prossimo update Allora In ogni caso ragazzi Cosa faremo oggi? Ehm Dicevo che dobbiamo Tra la casa Non cosa faremo oggi Ehm La stanza dove posizionarli Ehm Penso proprio che andremo Per Di qui Inseriremo un altro glass Eh, ricordate Oh cavolo Ok Ehm Ah per adesso Sentiamoci questo glass E leviamoci Questi cosi qua Anche Ok Allora Inseriamoci per adesso Questo alloy Che riceverà energia da sopra Quindi per esempio Devo prenderci altri Pipe Ehm Un secondo che devo posizionare Questo meglio Ok Allora Pipe 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 Ehm Abbiamo U31 Ottimo Quindi a sto punto Oltre a quello Faremo anche Il nostro Ehm Su meal Capacitator bank Dov'è il nostro coso Stealing Alloys Smelter And i U Sapete che non riesco a trovare Ehm Il nostro Maceratore Ehm Eccolo Qua Sag meal Non so se è questo Ma penso si Penso sia questo Ok Ehm Quindi facciamoci un attimo Un paio di nugget di questi Opla Ehm Sag meal Eccolo qua Uno E due Ottimo Ecco qua Quindi questo Più questo Più Vabbè poi tutto questo Coso Abbiamo il sag meal Chi è il nostro Maceratore Come funzionano i due macchinari Funzionano l'energia Di Ehm Joule Ovvero Quella di Normale Woodcraft Quindi Per esempio Se facciamo questi Tubi Vedete che funzioneranno Opla Ora riceveranno un po' L'energia ci vorrà un po' Di tempo Però più o meno Cresceranno Abbondantemente Cosa fare poi Ehm Dopo che funzionano Questo è una fornace Che normalmente Qua c'è la roba Questo maceratore Che normalmente Macera la roba Ehm Questo maceratore è buono Perché è Integrato insieme a quello Di Gregtech Però non abbiamo Gregtech Quindi non ci interessa Il normale maceratore Per noi Questo invece Servirà per fare Altra roba Infatti Andremo oggi a fare Direttamente i potenziamenti Per poterli usare Poi in futuro Anche come Normali Maceratori Crafting Cioè Maceratori Che poi Postano direttamente qui Quindi senza problemi Faremo delle upgrade Cosa fare quindi Come upgrade Ehm Ci servono Questi qui Due le Due layer Però andremo a fare L'octa di capacitator Quelli più potenti Insomma Quindi Fare questo Abbiamo bisogno di Ehm Fare della sand Ok E inserirla giù Perché dobbiamo farci Opla Qui dentro Ehm Dobbiamo farci Ehm I silicon Che è questo qui Poi un silicon Insieme a del coal Che non mi ricordo Se era Ehm No Con la normale E un iron Ci darà Il nostro electric steel Quindi ne faremo un po' Allora Diamo un attimo Di Ehm Mettere Ok questo E del coal Ok 32 Non più di tanto Opla Ehm Dopo di questo Faremo anche Ehm Un paio di questi Perché mi serviranno Quindi per esempio Ehm Direi Dieci sono anche abbastanza Bisogna fare un testing E dovrei avere un paio Un po' di glowstone Ok E un po' di resto Ottimo Quindi Oltre a questi due Nient'altro E anzi Faccio vedere una cosa bellissima Che dobbiamo farci Ehm Dobbiamo farci un bel po' Di capacitator bank Questi qua sono molto Molto utili Ma li vedremo nel prossimo episodio Perché ci vorrà Vedete Questi double layer Quindi voglio automatizzare il tutto Per rendere L'autocrafting Bellissima Quindi un autocrafting Quella roba Andiamo giù nel frattempo Vediamo come va Ah cavolo Non era qui dentro Ah merda è vero Era nel maceratore Non Nel coso per cuocere Quindi Qui ci mettiamo Anni circa 8 E 8 di questi Guardate Finendo di cuocere Un altro Un altro coso E come vedete L'energia sale abbastanza velocemente Quindi Facile facile Ok Allora Un silicon Mettiamolo qua Opla Vedete che l'ho messo qui dentro Poi automaticamente Sta cuocendo E Questa cosa Non fornisce Ah All sbelting Come vedete Potremmo scegliere Quale versione Da fornace vogliamo E anche se Sempre attiva Non attiva Questa è un'ottima cosa Ok Allora vediamo un attimo Di prendere un altro Di questo Bam Dove è andato Non so se Passa automaticamente Ma non penso proprio No no Ok telefono Arrivo subito Ok rieccomi Allora come vedete Sta facendo un altro Secondo steal Qui nel frattempo Macero un po' di sand Non so ma si Mi sa che ce ne vogliono Due di sand Per fare quella roba Ma voglio dire un attimo Una cosa Se io macero Normalmente La sand Il normale maceratore Mi dovrebbe dare la stessa cosa Più o meno Almeno Dovrebbe esserci Questa opzione No invece non va Forza Dovamo usare forza Quella di Enderio Quindi mi raccomando Dobbiamo usare forza Quella Che brutta cosa Ok Ok allora Come va adesso Mi ha fatto un altro steal Quindi possiamo già vedere una cosa Però me ne servono quattro All'incirca adesso E Quindi Quindi veloce 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 Devi essere più energico E attivo Ok Silicon Bam Ok Allora nel mentre vi faccio vedere Cosa dobbiamo farci Dobbiamo farci Prima questo qua Questo qua Due precisamente Ok E poi uno di questo Che si fa in questo modo Quindi semplicemente Della coal dust Che si può fare in qualsiasi modo E uno di questo Cosa fa quindi questa cosa Double layer E un primo upgrade Serve per fare tante altre cose Ma può essere anche un upgrade Per i macchinari Infatti Vedete che Aumenta la quantità di energia Che può utilizzare Aumenta anche l'energia Che sta utilizzando Ma soprattutto aumenta la velocità Questa è una cosa fantastica Quindi Senza problemi Possiamo mettercelo qui E bam Farne un botto di robe Quindi ci vorrà un po' di tempo Voglio più o meno fare Almeno Due Di quelli Ora Non so perché i silicon Fanno uno alla volta Probabilmente è un bug I don't know Dobbiamo farci un altro Allo e smelter Quindi mettiamolo qua Se almeno Non facciamo tutti insieme E possiamo farlo Cioè facciamo tutti insieme Però tramite due macchinari E siamo anche più veloci Quindi Allo e smelter Ne faccio uno di questo Ok E poi anche questo qua Opla Ah cavolo Mi serve una stone Abbiamo della stone Si Opla Bam Benissimo Allo e smelter Ottimo Scendiamo giù Andiamo Ah abbiamo il cavo Si ce l'abbiamo Opla Mettiamolo qua Ehm Mangiare Ok Ci facciamo quindi Ehm Più o meno Sedici Dieci Trento Allora insomma Questa roba Ehm Ora non ha energia Quindi non può andare Ma così dovrebbe andare Ok Così almeno abbiamo anche questi qui E poi dobbiamo farci questi qua Che sono un po' più complicati Quasi ci vorranno Ci vorrà forza Della ender pearl Però nel mentre Craftiamoci Ok altri due di questi Ottimo Qua è finito tutto Quindi altri quattro Ehm Ottimamente Possiamo quindi buttare Ai Buttare questa redstone nel mentre Anche questo iron e quest'altra cosa E questi Ok Questi Ehm Tre Me ne servirà un altro Velocemente Se facciamo quattro Ne facciamo due Direttamente Ehm Poi Facciamoci anche questo Me ne servono Uno soltanto No Due mi sembrano Sì Due di questi Mi servono Ok Quindi Uno Facciamo fare un altro A questo nel mentre Dato Devo aspettare Forza elettrica Uh Vedete aumenta anche L'energia che supporta Quindi 20.000 La velocità è molto molto lenta Quindi prendiamo questo double layer Lo mettiamo qua Opla Come vedete Va molto più veloce Eh Ok Bam Eccolo qua Ehm Questo qua Mi serve delle ender pearl Che non ho portato con me Ender Ender dust Non so se lei prende queste Queste qui Sapete Proviamo Oh sono sempre prove Non si sa mai Ehm Mettiamo qua per esempio Ok No non le prende Perché se no Invento le tweak Le avrebbe già inserite dentro Quindi dovrò Forza prendere Delle ender pearl Normali Ender pearl Ah due di queste Ottimo Andiamo giù 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 Bam Amo tantissimo Questo coso Ok due di queste Due di questi Ehm Andiamo qua Qua ne ho fatto ancora tre Ma non ci interessa Veloce a cuocere Ok Uno di queste Andiamo qua Oh sei Più o meno su sei Quelli che ci servivano Quindi ottimo No bugia Ce ne servono molti di più Ma fa nulla Ok Veloce a cuocere Uno E il secondo Guardate Criando qua sopra Possiamo vedere tutte le resep Che possiamo fare Ehm Questa se vuole Normale E poi ci sono per esempio Ehm Normali Cioè Normali fornaggi Alla fin fine ragazzi A seconda di materiale Come vedete E' giusto un po' Bugata la cui Ma Quali sono dettagli Possiamo Cuocere tutto Insomma Senza problemi Ok Due di questi Quindi andiamo a craftare L'ultima parte Ehm Quindi 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 ci serve una glowstone Dust Cioè Quattro glowstone dust Fornna glowstone E poi ci servono Ehm Due di questi Ehm Ok Quattro di questi In totale Cinque Vabbè Facciamo ne sei Tanto serviranno comunque dopo Ehm Oplan Ok Uno E due Ottimo E tre Va Facciamone tutti E poi finalmente Questo qua Bam Uno e due Otto Ottimo Non ottimo Ottimissimo Anzi direi Ok Ci andiamo giù Ehm Lo mettiamo per esempio Qua Che sta cuocendo Vediamo Bam Vedete che è aumentato ancora di più È arrivato a centomila Mi sembra Si centomila E la velocità Guardate che è aumentato molto di più Molto più velocemente così Ok Quindi per esempio Adesso possiamo mettere questo qui dentro E fare Tre altre robe Perché due Ah Ce n'era già uno Vedete due Non fa aumentare la velocità Quindi è inutile Ehm Però Come vedete uno di questo E' ottimo Perché Boom Tanta roba Tanta roba in una sola volta Allora Queste robe Le possiamo portare giù Direttamente E la cosa che mi interessa di più Adesso è prendere della sand E macerarla Così potremmo fare i silicon Per la prossima puntata Quindi sand Uno stack Bam E metto una qua Opla Quindi Ehm Penso che chiuderò qui Un paio di buchi Più o meno E Ehm Che dirvi ragazzi Vi saluto per questo episodio Ci vediamo nel prossimo Adesso di 76 È tutto Ciao Ciao Ciao